Sì, dal periodo precoloniale, dal momento in cui i coloni a gruppi arrivano in questa nostra regione, quindi in una regione che non era ancora stata conquistata e cominciano ad insediarsi. Dopodiché invece viene veramente fondata la città, la colonia di Rimini nel 268 a.C., quindi noi abbiamo una prima testimonianza di un insediamento stabile prima della fondazione della colonia e poi a seguire tutta la crescita della città, la trasformazione della città e la trasformazione degli edifici, da edifici di legno, edifici in pietra, edifici in muratura, in mattone, fino ad arrivare ad una domus di un certo pregio, di una certa rilevanza qualitativa che si dovrebbe collocare nel IV-V secolo d.C. e poi un primo, diciamo così, abbandono o defunzionalizzazione di alcuni spazi della città per una ripresa poi successiva nel Medioevo fino al Rinascimento, al momento della costruzione della rocca malatestiana. La storia della città è conoscenza, quindi l'archeologia è conoscenza di quello che è il nostro passato, non soltanto legato agli oggetti, ma legato proprio alla trasformazione e quindi riuscire a capire l'evoluzione di una città, l'evoluzione di un territorio, è un compito principale, uno tra i compiti principali dell'archeologia e quindi dell'archeologo. Sapevamo che, soprattutto dagli scavi fatti negli anni 90 a Palazzo Massani, che la città di Rimini aveva una stratigrafia antica molto importante e non avevamo la certezza di ritrovarla anche all'interno del Teatro Galli e invece abbiamo avuto la possibilità di individuare uno spaccato, di ricostruire uno spaccato della storia più antica di Rimini anche in questa parte della città.